Finalmente sei arrivata anche tu su Marte, Fere, ce l'hai fatta a raggiungermi? E certo, Steph, dopo che mi hai abbandonato, alla fine ce l'ho fatta Fere, guarda, quello in mezzo a 200 mob ero io, non tu, quindi lascia perdere Sei odioso, mi sono fatta prima un bel giretto sulla luna con la mia buggy, poi ho deciso di raggiungerti Sì, io sono dovuto rimanere nascosto tutta la notte, così ho dovuto aspettare che arrivassi il giorno Guarda che brutto sole, guarda in alto Beh, un po' strano, beh, certo, Steph, certo Non è radioso come lo è sulla Terra, Fere, non mi piace molto È tutto un po' arancione, il pavimento, il cielo, quindi Allora, il nostro assistente segreto praticamente mi ha detto che anche qua su Marte ci dovrebbe essere qualcuno che vuole parlare con noi Ma prima di andare da lui, e infatti io credo che andrà male come la scorsa volta sulla luna Dobbiamo di nuovo combattere degli alieni, Steph Potrebbe essere Ma non ci si riposa mai, dovremmo essere in vacanza in questi periodi No, Fere Che fai con la bandiera? No, 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 noi siamo lavoratori, siamo astronauti, stiamo esplorando il mondo Ma non ci stiamo riposando E appunto, non dobbiamo combattere, Steph, è un viaggio di piacere questo Quello è vero, quello è vero, quello è vero In ogni caso, dicevo, prima di andare, io voglio piantare la mia bandiera anche qua Perché di fatto abbiamo conquistato anche Marte Ah beh, certo E voglio sbatterti in faccia Si può rompere? Come hai scritto poi, Steph? Potevi scriverlo un po' più carino? Era molto complicato Cioè, non sai neanche scrivere il tuo nome, Steph Hai visto? Ma sei vergognoso Ora tutta Marte conoscerà il mio nome Anche se non c'è nessuno Quindi, diciamo che non è che sia proprio Anzi, lì forse c'è qualcuno, Steph Vedo una specie, cos'è? Una casetta, non lo so L'assistente segreto metto di andare da queste parti Finalmente Ho fatto un bel giro per trovarlo E chissà se troviamo anche i curiosi di fare Prima o poi, magari Il robotino Ci facciamo il selfie Ah No, Steph Non penso che lo troverai Magari sì Vediamo chi c'è qui E vediamo chi ci dice Allora Ma per esempio Non è uno zombie sto coso? Non mi sembra normale Scusi? Uno zombie con un pollo Droco Droco si chiama Ma aspetta Gli ha rinca la spada Alla spada pollo in mano? È anche un pollo È anche un pollo Lo vedi qua Che si chiama Droco 2 Droco 2 E vabbè, ma che fantasia The Friendly Zombie Quindi il zombie amichevole Allora, io prima di tutto Prima di stare qua a chiacchierare Guardare le cose Sinceramente mi guardo Il mio equipaggiamento Che non voglio stare Steph Cosa sono questi occhiali? Steph Gli stai rubando le cose Non sono nostre queste ceste Ah Eh Penso Boh, sai Di solito quando c'è una cesta La possiamo prendere No, sono cose sue Steph Gli le stai chiaramente rubando Allora Cioè, penso che dovresti Prima parlarci Ti sei già messo gli occhiali Almeno togliteli, Steph Non glielo far notare Ma sono strani Steph, togliteli Accidenti a te Ma che servono? Secondo me Smettila Hanno un potere Smettila Me li tolgo Guarda che poi ci attacca È uno zombie Ok Allora rimetto tutto a posto È che noia Ferre, dai però Su Ma ti sembra che devi andare a rubare In pianeti alieni, Steph Magari lancia le fiamme Dagli occhi e ti disintegra Tu che ne sai? Va bene Parliamo con sto drogo Tanto poi ci chiede qualcosa E ci dà l'equipaggiamento Perché Tanto sono sempre così La gente chiede sempre i favori Capisci? Ma almeno te lo devi meritare L'equipaggiamento Non siamo venuti qua per rubare Steph È diventato un ladro Allora Ciao viaggiatore Steph magnifico Vedi parla solo di me Perché ho messo la bandiera Per favore Non farmi del male No guarda Di solito sono gli zombie Che attaccano a noi Che ha rubato tutto Quindi se questo lo puoi considerare male Non è vero Ho rimesso tutto a posto Tranquillo Perché non ci stai attaccando Eh bella domanda Sono uno zombie amichevole Eh io l'avevo già letto Tutti gli altri zombie sono cattivi E vogliono ferire le persone Io voglio solo essere uno zombie amichevole Ed essere amico delle persone Ok Vorrei solo conoscere qualcuno Che sia abbastanza caraggioso Da dare a quegli altri zombie Una bella lezione Quali? Cioè praticamente Immagino zombie che ci sono in questo Marte In effetti io ne ho visto Ah ok Praticamente lui vuole cambiare Il mondo Il mondo È venuto su Marte Cambiando gli zombie Beh infatti l'hanno spedito su Marte Perché stava antipatico a tutti Perché esatto Stava antipatico a tutti Gli umani avevano paura Gli altri zombie lo odiavano E quindi l'hanno matto su Marte L'hanno schiaffato in un altro pianeta Vabbè Quali altri zombie? Gli altri zombie nella caverna Su per la collina L'ho segnata con una bandiera Mi hanno putato fuori E mi hanno detto di andare a cercare una nuova casa Perché non avrei mai E poi mai ferito le persone Che venivano a vedere E ad esplorare la caverna Va bene Ho preso Droco 2 secondo E siamo partiti Non voglio ferire O essere cattivo con nessuno Droco il secondo Non era Droco 2 secondo Era Droco il secondo E' il tuo secondo Cioè Perché c'è Droco 2 secondo No è il Lo vedi che è un il Ah Ok Droco il secondo Ok Lo chiama Droco il secondo Volevo dirti A me sembra un po' imperdente Io non lo vorrei aiutare Cioè alla fine Povero Gli zombie attaccano per definizione Se non vuoi attaccare Che te ne vorrei amico mio O no? Beh magari a lui non gli interessa Non è che tutti devono fare la stessa vita E' là perché ci chiede di andare Possiamo aiutarti Sì ma ci sta chiedendo di andare a picchiare Quelli diversi da lui Sì Ma non è una bella cosa No Quelli cattivi Non quelli diversi Ma non sono cattivi Sono semplicemente diversi Ma basta incontrare O Steph Veramente Ma è fantastico Sapevo che prima o poi avrei trovato Degli umani disposti a aiutarmi Esatto A riavere la mia casa A riavere la mia casa Non ho molto Tutto quello che ho in quelle due ceste laggiù E tu gli stavi a rubare tutto Steph Complimenti Prendete tutto ciò di cui avete bisogno Hai visto Avete anticipato i tempi Ci sono anche altre cose Che l'hanno potuto prendere Prima di essere buttato fuori casa Sentitevi liberi di prendere anche quelle Se le trovate Ok Ci saranno altre cose nella caverna Ok troppo Lo faremo molto volentieri Qua Non so bene cosa c'è E' il mio equipaggiamento Steph Vai via Ok Questo io me lo prendo Sinceramente così All'ossigeno infinito E questi Mi cambio equipaggiamento Io vorrei capire che cosa fanno Questi occhiali Non lo so Adesso li indosso e ti dico Allora Spade piccone Che ci saranno sicuramente molto utili Va bene quello ok Quello è un classico E ci sta Dove li hai messi Non riesco a metterli E li devi togliere l'elmo Ah devo togliere l'elmo Quindi mi rimane Belli Cosa ci ho fatto fare Mi è piaciuto il tuo belli Belli Allora guardate Io vedo così Se faccio destro Zoomi Zoom Sì Per zoomare Molto lento come zoom E anche molto Molto Cioè molto Molto E ma come si dice Molto poco zoomato Se farlo meno Secondo me magari c'è un tasto Capito Non lo so Tipo un tasto segreto Che ti permette di vedere Stra in avanti No io me li tengo Sono carini Ma io no Anche se ce li ho sempre in fronte Preferisco Una protezione Non è piuttosto che Guarda Steph Io ce li Fede ma Chi è stato? Hai sparato? No non ho fatto niente Sono ferma Non è che Stanno prendendo danno Forse hanno finito l'ossigeno Poveri Che ti succede? È colpa mia Che hai fatto? No sei un imbecille Steph Ha ucciso Droco il secondo Che sta uccidendo Droco primo No Droco primo l'ho salvato Pensavo che l'ossigeno infinito Fosse per noi Ma sei un imbecille È ovvio che te lo devi toccare No Steph Dobbiamo prendergli un altro pollo eh Andiamo forza Io non ho parole Io non ho parole Forza Gli zompi di sotto sono cattivi Fai davvero schifo Sei tu che meriti la morte Pensavo fossero per noi Ma è ovvio che non so che noi Tu ce l'hai la tua tannica d'ossigeno Che vuoi da quella degli altri Aiuto Aiuto Non è stata Fa male Fa male Aspetta Io mangio prima di scendere Quindi Sei morto? Mi dispiace Pensavo fosse come la luna Che non prendi troppo danno Oh cavolo Ferre c'è roba brutta? Ma Sì? Non è che ci servono per vedere al buio Sti Potrebbe essere L'ho pensato anche io Vanced mode Steph mi sta attaccando un botto di gente Che faccio? E Ferre io mi sono perso Quindi Che faccio? Eh devi difenderti Io Prima o poi arriverò Te lo prometto Ferre ma perché questi mostri sono così strani? Dove è la mia spada? Ecco me l'aveva tolta Non lo so Picchia 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 Fanno malissimo Sì ma fanno anche paura E se Cavolo che postaccio Aspetta che mangio Oh mio dio Queste sono tanti Oh Esplodi Così esplodono gli altri Ok E risolvo Ok Ah Vabbè ma siete anche forti Cavolo Continuano a Siete davvero 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 forti Non vedo più nulla Anche io Non vedo più nulla È difficilissimo vedere in sta caverna So solo che sto rompendo qualche Spawn In modo tale che la smettano di spawnarci Io vado avanti Però ti giuro che non vedo più Praticamente nulla Non so cosa sia successo È come se fosse esploso qualcosa Occhio Non lo so Penso che ci sia direttamente Molto buio in questa caverna Hai notato che i creeper Sono molto lenti ad esplodere Molto molto Questo mi ha fatto pure male Aspetta che mangio È un bel vantaggio Eh più o meno Sì Ok Continuo a rompere i vari spawn Ok Aiuto Ti uccido i ragni Grazie 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 Mangio Fere ma mi hanno tipo tolto l'equipaggiamento Non lo so Non credo Ah no l'ho trovata La titanium chest È più forte della mia Ok mettitela allora Ok sì sì l'ho messa L'ho trovata anche io in effetti Ok Allora Vediamo da questa parte Eh sì Io vedo una ceppa Steph Non abbiamo delle torce Lo so fare Lo so è abbastanza Un casino Abbastanza un casino Allora No qui si torna indietro Vieni 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 Sicura? Sì Sicura? Sì Steph Come abbiamo fatto a tornare indietro scusami Non lo so però ti ho detto che si torna indietro Bisogna andare qua Ok Qua 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 Oh no Esatto Fere ma è lunghissimo sto posto Rispetto a Che ti devo dire? Oh no Vabbè ci pensano i creeper a far esplodere tutto Sì infatti Per quello mi sono lasciato in mezzo È una bella cosa Però gli enderman cavolo fanno male Sono davvero forti Via E muori Poi con sta cosa che si salta è davvero difficile combattere Eh sì Ok uno l'abbiamo steso Dai forza Fere che manca l'altro Non vedo una ceppa Io vado più avanti Ok devo provocare quest'altro creeper Dai e muori accidenti a te Vai creeper esplodete Fere no 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 Quanti sono Ma che facciamo? No 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 Mangiate la mela d'oro Per fortuna ce ne erano dentro Io non ne ho mela d'oro Davvero? Eh dove la dovevo prendere scusami? Beh non lo so ce le ho io Quindi pensavo c'avessi anche tu Le avrei equipaggiate capisci? Non lo so Poi non vedo più neanche dove sei C'è talmente buio Sto correndo dritto E facendo esplodere i creeper Francamente Cerco di ritrovare la tua strada Ok Oh mamma mia no 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 Non siamo pronti Forse siamo in strade diverse Perché io non ti vedo E penso di morirci qui in mezzo eh Ma penso di morire anche io francamente eh Non so se sei tu Di morire Sì ci muoio ci muoio Vero? Troppi 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 Come faccio? Non lo so Come faccio? Sto morendo anche io Anche perché ci sono arragnatele In cui sono finito incastrato Per via delle esplosioni E sto avendo una difficoltà davvero enorme Io continuo a correre dritto raga Ci provo ci provo No 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 È impossibile È impossibile Corri Steph L'armatura di Droco Non era così tanto efficace Le mele d'oro Ce ne servirebbero tipo 200 Eh sì Eh sì Cavolo che casino Uff Sono riuscito a chiudere dietro di noi Credo che siamo arrivati all'incirca alla fine Io Steph Quando sono morta Ho chiesto a Droco un po' di torce Hai fatto bene Quindi adesso Andiamo e proseguiamo Allora Ferri Il discorso è che io ho fatto una cesta Ok Che è Ho trovato delle frequency module Ok Che non so bene a cosa servono Ci sono altri mostri Fammi illuminare Ok posso ricevere dei segnali da lontano Che c'è Ferri Hai altri blocchi Perché lì è pieno Ferri credo che lì è dove dobbiamo andare Prenditi due mele d'oro Che secondo me sono strautili Una E affrontiamo E mi picchiano Tranquilla Ci penso io Ci pensa Steph A difenderti Mi mangi una mele d'oro Eh vabbè Arrivo No io le conservo Per il boss Ok No io ne ho già mangiato una Perché stennò qua non ci Non ne usciamo Vivi Eh ma ho pensato Se è così difficile Che cavolo sarà il boss Che altro c'è aspetta C'è anche la spada in titanio Prendila 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 Eh perché no Anche la chest E gli stivali E gli stivali Ok questa è vera È nettamente più forte Sì Ok Ma metto pure io Anche gli stivali sono molto più forti Quindi lo sono anche questi Quindi ci stiamo preparando sicuramente Per qualche sorta di boss finale No Ahà Perché c'è sempre tanto in questi posti Aspetta che illumino Ok 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 Bene gli enderman e creeper Oh mamma mia Oh cavolo Diciamo Va un po' meglio Con la spada in titanio Che cavolo mi state dicendo Creeper addosso Però tu sei nella stanza col boss Giusto Sì Vattere creeper Che c'è un boss Qui non posso Oh cavolo Steph Oh cavolo Oh cavolo Già Dove sei? Prova a picchiare il boss Lo picchio Guarda ma sta prendendo danni È impossibile Cioè la luna era una passeggiata in confronto Lo so Ma che sei pazzo Fa schifo Ma che sei pazzo Sì sta prendendo danni Ma guarda quanti ne prende poco E continua a sbalzarmi E mi arrivano enderman Aspetta che metto torce in tutta la stanza Ok Io mentre provo ad ammazzare piano piano gli enderman Va bene Cerchiamo esatto Di avere una visione migliore Di questa situazione terribile Io mi mangio un'altra melador Qua ci vogliono Ricordi che se esci dalla stanza Ok Eh Il boss riparte con la vita piena Ma già si è ricaricato Secondo me No no Secondo me no Non credo che sicuri Allora tu pensi agli enderman? Sì Io provo a picchiare il boss Esatto Vai Fere Anche se non perde vita Siamo una squadra È un creeper mostruoso Ma non aveva detto che c'erano solo gli zombie cattivi Qui sotto Ma questi si sono alleati con dei mostri Credo che Trocco non ci abbia detto proprio tutti i dettagli Cioè sì Forse da quando l'hanno buttato fuori Hanno provato a trovare altri alleati Stef Non so che dirti Ma qui è pieno di enderman È pieno di creeper E oltretutto c'è un boss creeper super spaventato Il boss non l'aveva nominato eh Lo so Il boss non l'aveva nominato Però dai lo sapevamo già Non va bene Dovevamo venire qui È solo ad uccidere due zombie in croce E non a uccidere tutta sta roba Che casino c'è Troppo Perché sto qua non smette di far esplodere le cose Ma gli sto facendo danno Io non lo so se lo colpisco Guarda Io ti posso dire che enderman Gli ho tolto almeno la metà Secondo me Ok vai 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 Continua Quindi Sto andando davvero 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 tosta Col fight Che poi vieni sbalzato costantemente È durissima Ok Ma comunque non perde vita Come l'avevano fatta perdere No 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 Così Allora io ho notato Ahà Che se gli tira No sbettetela Mi sta lanciando in aria Se gli do Semplicemente spadate Non mi sembra che Si prenda danno Sembra che quando mi tira la TNT E io sono a fianco a lui Si faccia autodanno Vero Non lo so Mi sembra una cosa del genere Ho avuto lo stesso feeling Fere francamente Perché guarda con la spada E lo sto colpendo da due ore Io ho avuto lo stesso feeling Ovvero che la nostra spada È troppo debole per questo boss Ma che si faccia male da solo Da quante volte Si guarda guarda Allora gli devi attirare le TNT E poi stare sotto i suoi piedi Così lui se le tira addosso Vedi Ok Ho trovato il modo Vai lo sto distruggendo Ho trovato il modo Vai Steph Sono con te Fere La spada non gli fa niente Guarda io continuo a picchiarlo Con la spada non gli fa niente Dobbiamo attirare le TNT Sai forse è immune Il danno della spada Si mi sa proprio di si Ok con la TNT Però funziona Steph È un ottimo metodo Vedi Vedi dai metà vita Ora si abbiamo trovato il modo Beh ho dovuto sterminare 40 Ender Nel mentre Però delmeno abbiamo trovato Il modo di sconfiggere Mangio la mela Ok Ok È schiatta Tiro della bella TNT Dai Creeper ha tre teste Cavolo Due Non mi piace proprio Marte Già la brutta Due teste ha Ok Sei molto brutto Sì una centrale e una destra È un alieno Un creeper alieno questo Dai Ma Si sta colpendo Perché mi sembra di no Fere Ok Aspetta non si sta più colpendo Esatto Dobbiamo ritrovare il modo Di farsela Tirare Nei piedi Solo a me la sto tirando però Vero Forse Sono qui sotto Ha capito come la stavamo sconfiggendo Secondo me E ha cambiato tattica Guarda sono fatto ok Lo devi fregare Devi andare lì dietro Se tu sei dietro i suoi piedi Lui non ti vede bene Te la tira lo stesso È molto intelligente Non è un boss normale A cui siamo sempre abituati Steph Molto intelligente Io non so che fare Ma ci stai provando almeno No Come no No mi sento un po' inutile Cioè Il danno gli ho fatto tutto io Steph Ma non mi puoi fare ste robe Ok Ok Si è uscita da lì due colpi Brava Si Si Non c'è spada che le fa danno Che gli fa danno anzi No No le spade non funzionano Ok Può farsi male solo con la sua stessa dinamite Interessante Qui a me non fa troppo danno Non capisco perché Evidentemente la nostra armatura Quella che abbiamo trovato Mentre combattevamo dentro il dungeon Era veramente buona Infatti si è uscita a rangere anche tutti gli enderman Anche se mi sono dovuto tirare tipo due o tre mele d'oro Quindi comunque È stata difficile Però ce l'abbiamo fatta Dai Manca pochissimo Steph Eh pochissimo per voler dire Oh non crolli eh Siccome se io me ne vado Viene meglio No Steph Ce la farei dopo Rischi solo di resettarlo Dai che ci sono due ore così Non ci provare Hai ragione Dai esplodi Sto guardando il fighter da lontano Dove stagli appiccicato come non so che cosa Sì ma non si sta più colpendo Allora dobbiamo farli prendere da Perché è difficile Mi devi aiutare Steph Lo dobbiamo confondere No lui lo capisce Non se lo tira più addosso Io sto analizzando la battaglia da lontano Ok ce l'ho fatta Vedi se ci sei anche tu Lui si confonde di più Devi colpire la TNT E rimbalzargliela addosso Ah funziona anche così Sì è così che funziona Eh ma è difficilissimo Se lì stai troppo vicino Sì se lì stai un po' lontano Ma l'ho fatta rimbalzare dall'altra parte della stanza Non sei molto brava Ok Vedi Devi fare a tennis quindi Te l'avevo detto Ma che cavolo Cavolo tu ora neanche avevi capito È perché tu l'avevi capito Che mi hai fatto Sì sono dei ventinoni nei piedi Quindi che cavolo vuoi Manco tu l'avevi capito Era difficilissimo Sei vergognosa Abbiamo mai affrontato robe del genere Non le abbiamo mai affrontate Sei vergognosa Tu sei vergognoso Dov'è la chiave? Che chiave? La chiave che da sempre Non lo so Ah ce l'ho io C'è un uovo qua Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Distruggiamo anche l'uovo? No è pieno di uova Fer Lascia perdere Non so di chi siano Allora ho la chiave per aprire Questo forziere Ok E qua che c'è? L'ho già rubato C'è un ladro Mi ha detto fai te Vi stavo lutando C'è un ladro maledetto Vediamo cosa c'è qui dentro Ok Automatic cargo rocket Un music disc Che potrebbe avere qualche segreto Sì Dell'olio Armature Cibo Pieno di roba Ah ah Non male Non male Non male Non male Eh Fer ti do una notizia Dimmi Non c'è modo di risalire Eh lo so Quindi Io resterai qua E come facciamo? Aspettiamo che venga Drodo a salvarci Drogo Drogo Non drodo Stef Sì A cui ho ucciso il pollo Quindi non verrà mai a salvarti La verità Ha un debito con noi Abbiamo dovuto sconfittere Non verrà mai a salvarti Gli ho ucciso il suo migliore amico Abbiamo sconfitto un botto di roba Fidati che viene Porca miseria Capito? Se non viene vado lì all'ammazzo Anche se siamo incastrati qua Perché poi Se torna indietro è pieno di mobile Quindi siamo un po' fregati Sì